Questa che sto inquadrando è una delle piante che si può trovare fiorite a maggio e a giugno ed è la Valeriana officinalis, Valeriana comune, è quella che è solitamente venduta in erboristeria. Andiamo a vedere, allora è una pianta appartenente alla famiglia delle Valerianacee, è una pianta perenne, presente in tutta Italia, tranne in Puglia e in Sicilia. Cresce volentieri lungo i corsi d'acqua perché ama proprio gli habitat molto umidi, quindi la trovate vicino ai corsi d'acqua, vicino agli stagni. È una pianta che solitamente non cresce in gruppo, quindi è difficile trovare l'esemplare singolo, spesso ne trovate una accanto all'altra, infatti se io allargo l'inquadratura vedete là in fondo quante Valeriana officinalis sono presenti. Ecco qua, qua che cresce proprio frammista all'equiseto perché condividono lo stesso habitat. Andiamo a vedere la pianta, la pianta è una pianta erbacea ma arriva a una notevole altezza, tranquillamente un metro e mezzo, quest'anno che è piovuto molto arriva tranquillamente proprio anche ai due metri. Il fusto è poco ramificato, eretto, poco ramificato, completamente glabro, con delle scanalature longitudinali, vedete. Sono presenti foglie sul fusto che si dispongono in maniera opposta una di fronte all'altra. Le foglie, che sono foglie composte da questi segmenti lanciolati con il bordo fortemente seghettato e le nervature ben evidenti, sono molto più lunghe quelle basali, formate anche da molti più segmenti. I segmenti, quando dico che sono in paripennate, vuol dire che i segmenti sono in numero dispari. Sono circa una ventina di segmenti per quelle basali che arrivano ad essere lunghe 40-50 centimetri. Questa è la faccia anteriore e questa è la faccia posteriore che è leggermente più chiara e le nervature proprio sono evidenti e si sentono anche al tatto. Anche le foglie sono completamente glabre. E poi, man mano che si va verso l'alto sul fusto, pur rimanendo in paripennate, quindi con segmenti dispari, diventano sempre più piccoline e con meno segmenti. E questi sono i fiori, i fiori riuniti in un'infiorescenza a Corimbo. Fiori bellissimi che possono essere o bianchi o tendenti al rosa. La Valeriana Officinalis sarebbe una specie commestibile, ma il sapore non è per niente buono. Provate a assaggiarla, ha proprio un saporaccio. Quindi si usa principalmente in fitoterapia. Ed è una, tra l'altro, delle piante più conosciute in fitoterapia, perché chi non conosce la Valeriana o ne ha fatto uso almeno una volta nella vita. Di solito, quando andate in erboristeria e comprate le compresse di Valeriana o le capsule di Valeriana, della Valeriana vi vendono fondamentalmente la polvere derivata dalla radice. Però anche il resto della pianta si potrebbe utilizzare. L'unico limite è proprio il sapore, perché si potrebbero fare degli infusi con le foglie o con i fiori, ma è proprio difficile berli. Quindi è per questo che viene usata principalmente la radice e la polvere della radice, proprio perché ingoiando una capsula il sapore è meno intenso. Però, ripeto, volendo potreste usare anche tutto il resto della pianta. Ecco. Ovviamente con la Valeriana non si può fare il fai-da-te, perché potrebbe andare a interagire con altri farmaci o con le vostre condizioni di salute, ma questo vale in generale quando fate una terapia fitoterapica. Non pensiate che naturale vuol dire innocuo. Le piante hanno dei fitocomplessi che agiscono, tali e quali come i principi attivi dei farmaci, quindi devono rimanere all'interno di una finestra terapeutica, perché altrimenti un sovradosaggio potrebbe dare effetti collaterali e soprattutto ogni pianta va valutata in base al vostro stato di salute e a farmaci che eventualmente prendete. Quindi no fai-da-te. Detto questo, la Valeriana è conosciuta per il rilassamento. Infatti contiene, tra i vari fitocomplessi, l'acido valerenico, che inibisce la degradazione del GABA, acido gamma-binobutirrico, e questo dà appunto una sorta di rilassamento, quindi spesso utilizzata per le alterazioni del ritmo sonnoveglia. Però un altro utilizzo della Valeriana è quello anti-epilettogeno, che non è sempre conosciuto, però ecco potrebbe essere utilizzato proprio anche per ridurre crisi epilettiche e non solo. Un altro effetto e un altro utilizzo della Valeriana storico che potete tranquillamente fare è per ridurre gli eritemi e l'eczema soprattutto. In questo caso viene usata esternamente e potete usare tranquillamente fiori e foglie, che potete usare freschi o essiccati, essiccati, raccolti nel loro periodo balsamico, essiccati per averlo tutto l'anno, fate un infuso molto concentrato, lo fate raffreddare ovviamente e fate dei lavaggi e sull'eczema ha un effetto veramente sfiammante. Quindi eccola qua, la nostra Valeriana officinalis, Valeriana comune, famiglia Valerianace. Grazie. Grazie.